La guerra per il controllo della piazza di spaccio no covid è già cominciata, ci sono già stati i primi scontri a fuoco, alcuni giacciono gravemente feriti, ricoverati in cliniche lessicali per essere stati fatti oggetto appunto di raffiche di armi, raffiche di concetti di armi da logos. Probabilmente da qui a sabato quando si, secondo alcune fonti di informazione ci sarà uno scontro decisivo, avremo uno stilicidio di altri eventi. L'obiettivo è il controllo della piazza di spaccio no covid, cioè la piazza dove verrà spacciata la sostanza no covid che non deve circolare in tutta la cittadinanza perché è una sostanza pericolosa. E allora il suo spaccio verrà consentito in un luogo delimitato, posto sotto il controllo di gruppi di delinquenti e quindi l'attacco alla piazza per poterla occupare è già iniziato. Diciamo che i primi estimatori della sostanza no covid che l'hanno fatta conoscere al mondo devono sloggiare e quindi si stanno muovendo le forze organizzate. Quante volte è successa una cosa del genere? Una volta che la piazza sarà stata occupata da queste organizzazioni verrà tagliata con altre sostanze concettuali nella misura e nella quantità che farà comodo a chi supporta la nascita di questa piazza che è a piani ben più alti, molto più alti. Sostanze concettuali che possono essere di qualsiasi genere, in modo da utilizzarla in vario modo per il controllo della devianza mentale. Per esempio si può mischiare la sostanza no covid con idee ossessive in modo da attirare in quella piazza soggetti psichiatricamente deboli ma contemporaneamente tenere lontano dalla sostanza no covid pura il resto della cittadinanza. Questa è la questione insomma. Ora fuori di metafora, ma signori ma l'avete capito che la manifestazione del 5 settembre è organizzata da forza nuova? Lo avete capito? è che quella manifestazione ha l'obiettivo di mandare via i primi estimatori della sostanza no covid pura però, senza una marea di altre cazzate. Quante sostanze verranno usate per tagliare la no covid per renderla infine tossica. Nel frattempo, a livello più basso, è cominciata anche la rissa e il parapiglia fra i cavalli, i quali litigano per attribuirsi il merito di essere stati i primi a sintetizzare la famosa sostanza no covid. E lasciamo che si accapiglino, eh? Tanto non c'è alcun interesse a far conoscere, a rivendicare la paternità di questa sintesi. Che interesse è a chi l'ha veramente sintetizzata? Lasciamo che si attribuiscono questa paternità a quelli che sono arrivati con ampio ritardo e dicono sono stato io per primo, c'ho questo video, lo posso dimostrare, è uno spettacolo pietoso da cavalli che poi verranno messi lì sulla piazza di spaccio, retribuiti quel tanto che basta per tenerli in vita e sono gli spacciatori di strada. Nel frattempo le organizzazioni di maggiore spessore si stanno posizionando, la più grossa è appunto forza nuova, ce ne sono altre, le prime sparatorie logico-verbali sono già avvenute, i primi feriti sono stati ricoverati nelle cliniche lessicali e che ci vogliamo fare. E noi, che siamo i primi estimatori, non sto dicendo che noi abbiamo sintetizzato la sostanza non-covid, non ci interessa partecipare a questa gara. I primi estimatori, così come una volta negli anni 60 c'erano i primi che si facevano le prime cannucce, l'afgano che veniva veramente dall'Afghanistan puro, capito? Eh, roba buona, portata da quelli che andavano in India a fare il viaggio spirituale, la ricerca e poi insomma lo spaccio di questa roba tagliata è finito nelle mani delle mafie, lo sappiamo, degli spacciatori di strada e si trova ormai soltanto robaccia. E quindi i primi estimatori ovviamente stanno per essere scacciati. Qual è la proposta che si fa noi viaggiatori, noi che metaforicamente siamo andati in India, in Afghanistan e poi siamo tornati e vi abbiamo fatto conoscere questa pianta preziosa che è la pianta del dubbio. È quella di, sì, la piazza no covid non la si può ottenere, questa ormai è stata già presa da queste organizzazioni, quindi noi dobbiamo invece diffonderci in tutta la città, capito? E fare in modo che il consumo di questa sostanza concettuale, che lì è chiamata no covid, ma che in realtà è la sostanza concettuale del dubbio, che l'uso di questa sostanza diventi generalizzato. E a quel punto la sostanza no covid continuerà ad essere spacciata lì, è uno dei tanti dubbi che si devono avere e che possono essere risolti analizzando la realtà con i dati a disposizione, e ci sono i dati, e con gli strumenti logico deduttivi che ci sono da sempre, beh da sempre, dai tempi dell'antica Grecia, quando abbiamo scoperto il principio di non contraddizione, ok? Questo è quello che possiamo fare, che dobbiamo fare e che faremo. Comunque, la serie Govorra vi appassionerà, ve ne parlerò.